Capriccio dell'iscritto Oh porco di Mamma iniziamo bene cazzo Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video del capriccio dell'iscritto Siamo ritornati oggi finalmente Inoltre qui c'è l'iscritto che ho letto il commento appunto di questo capriccio Nel capriccio precedente dove mi mettevo il ghiaccio nelle palle E questo è altrettanto bastarda come sfida Perché avete presente gli accendini? Sì quelli che si accendono Praticamente sono andato a estrarre uno di questo E praticamente manda la scossa elettrica ogni volta che si preme Perciò praticamente fa la scintilla Così diciamo che si può accendere Ad ogni morte mi darò un colpo di scossa elettrica Dove cazzo mi pare? C'è tipo nel dito, nel culo Quindi dovrò stare un attimino attento Perché questo coso fa male Poi io tipo sono sensibile troppo a queste cose no? Cioè sensibile non nel senso che mi metto a piangere Nel senso che mi fanno male della madonna E quindi vedrò un attimino di riuscire a fare una buona partita E sti cazzi qui dice Dove cazzo sei? Dove? Ah! Starca troia! Cioè questa è una cosa veramente che non voglio fare Perché mi fa un male cane Vabbè andiamo Arco di ghiacce! Ah! Ah! Fa 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 mi fa un male cane Voi non avete idea Perché madonna Perché poi ci sono comunque sti cosi che Ci sono quelli che non fanno un cazzo E quelli che poi fanno un male della madonna Questo è uno di quelli che fa un male della madonna Mi sta veramente Mi chiami Mi ti Cristo Dio Mi formico lì al dito Io mi devo guardare le dita Non il gioco! Cazzo! Oh! Cambiamo dito sto giro Un attimino Cambiamo dito perché le cose sono paurosamente paurose in questo Porca troia! Mi sto facendo male a bestia Oh adesso però devo giocare un attimino più decentemente Perché oh! Che cazzo è sta merda che sto facendo di partita? Sono troppo concentrato sulla scossa Perché questa scossa mi arriva al cervello Mi fa andare in pappa ai battiti del cuore E io esco pazzo Perché Eh? Capito? No non avete capito un cazzo Però fate finta di niente Sto dicendo delle merite minchiate Questa Chissà corriente Che ha giacchia non ti è Allora Vediamo di Riuscire a fare Almeno una kill La riusciamo a fare Anche perché non gioco a bel cops da tanto Però stica Ah tua madre Ah porco zio Aspetta Come mi ho sceso? Come? Ma dai ma dove cazzo sei salito? Minchia adesso me lo faccio sul pene Questo coso sulla minchia me lo faccio Non ci penso nemmeno Qua sul palmo della mano Porca troia Sul palmo della mano fa meno male Ma non lo faccio allora sempre lì Cioè fa molto meno male sul palmo della mano Devo fare sui punti sensibili Perché altrimenti Non è altamente mazuchista Ah porco addio Non faccio una kill Dio Ah ah Ho colpito due dita sto giro Ho colpito due dita Cioè sono a 0-4 Ma Tipo che sto facendo schifo Oh Guarda che le sto jumpy tech Si riprende tutto insieme Guarda che le sto jumpy tech Fa Fa i devasti Un attimino Un attimino Un attimino Ok Da che siamo a 2-4 Ok Ottimo Solid marker Ovviamente Perché Gesù vuole così Qualcuno da qua uscirà Non sono seguro Seguro Scaracca Oh che figata sto scaracca What the fuck Madonna che non l'hai Per questo ci ha speso i big money Per sto scaracca Tanto veniamo usciamo da qua Qualcuno Qualcuno troveremo sicuro Ne sono sicuro Ah Minchia mi formicolino L'elita Voi non avete idea Anche col silenziatore Questa Quest'arma è ottima Quest'arma è ottima Cazzo Così non mi intercettano I nemici Allora vediamo dove Dove possiamo trovarli Vaffanculo No La granata Oh Che cazzo Togliti dal cazzo Ho permuto la chat Jumpy tech E la sua intelligenza mentale No Non mi ammazzi Non mi ammazzi Sì Madonna Jumpy tech Il migliore giappone lo avevo Visto come mi sto riprendendo Mi sto concentrando Ma che cazzo faccio Il 3 devo premere Ok Eccolo avvi Altro nemico Porto zio Oh e muori Ok ok mamma mia Giapy tech Mamma mia giapy tech Il migliore 5 kg di fila Anche il drone d'attacco Aspetta che lo lancio Lancio qui Dai Vai drone Vai drone Ok Madonna No La macchinetta di merda Non ci credo Non ci credo Mi è passato tutto il cazzo di dito Madonna sulle mani Fanno sulle dita Fa un male immenso Non avete idea di che Tua madre zoccola Ma la poi sono succhiare Sul prepuzio sinistro Perché io ho due cazzo Tua madre pottana Sai sai Me l'ha fatto sia qui che qui Perché? Aspetta che lo prendo Perché è caduto Ma che cazzo E poi tipo lo lanci Cioè Dovevo fare Porco diaz Quanto camperi Guardate Questo è il cazzo di Call of Duty Spero che quella merda di Advanced Warfare Non sia così Sì Dopo sta morte Non mi sono dato il colpo di scossa Ma Sti cazzi Andiamo a fare un'altra partita Sto giro in tutti Contro tutti E utilizzerò una classe da run La partita ovviamente È già iniziata Perché Mi sembra ovvio Cioè Sto gioco non trova mai Una partita Non iniziata Quindi Adesso facciamo un attimino Ah Dio Minchia Quanto camperano I loro familiari Praticamente Li hanno partoriti In un angolino Perché camperano Cazzo Aspetta che c'è un nemico qui Adesso mi devo dare il colpo di Di cosa Non è detto Ehi Ah Mi devo dare due Dio caro Dio caro Non ne do Uno qui Uno qui Qua guardate Un altro qui Ah Dio carissimo Immacolato Oh Ma Ma sono io che ho qualcosa che non va Non capisco Veramente Cioè Minchia Ma mi ammazzano tipo come l'acqua Adesso Oh Sto vigino me lo succhi in punta Minchia che riflessi che ha avuto Cioè Devo farlo altre due volte Altre due volte Adesso me lo faccio in faccia Ah Fa un male in mezzo in faccia Oddio Da quest'altra parte Daia Cristo Dio Da quest'altra parte Ho fatto più male Madonna Santa Questi serve Questi bug Queste gonne Succhiami il cazzo Ho fatto un tutti contro tutti Che è proprio masochista Al massimo Adesso me lo faccio Sul prepuzio No non è vero Lo faccio sempre sulla mano Però lo faccio da questa parte Vediamo che succede Ah Ho visto la scintilla Sto giro Cazzo Allora Raffanculo Vediamo un attimino Perché il tutti contro tutti È bastardo In questo gioco Mu Mu Mamma mia Giampite che punta la testa Mi sembra tipo destiny Che ammazzo sempre Vendo i cazzo di headshot Mamma mia Giampite che Faccio schifo all'inizio E poi mi riprendo Perché sono troppo forte Tieni un attino Ok Ai Cos'è stata questa Granatina Tua madre zoccola Proprio Ah ce ne erano due Praticamente hanno fatto un panino Ok facciamo Vediamo se riesco a farvi vedere La scintilla Che fa Anche se ne dubito altamente No non come ha preso Ah Ah L'avete vista la scintilla Io l'ho vista sulla fotocamera Madonna Parco zio Brucia da morire sul palmo Ma che roba è Madonna Giampite Con la mitraglietta Che uccide così a distanza Sono sempre fortissimo Ah Madonna Visto quando faccio queste cose Poi io mi bagno tutto Tanto questo Despecial squadra Non lo vincerò mai Per il semplice fatto Che sono entrato Che praticamente Erano a 16 punti Già E io sono solamente A 8 Madonna Anche l'uav Cazzo Se me ne vado Ciao Ah Figlio di puttana Uav disturbo pure Tua madre zoccola Sai Minchia Ma che cazzo hai Nelle mani Un bordello di cose Devo farlo due volte Se non erro Vi facciamo Ai Porca troia Perché poi ci sono i colpetti Ci sono i colpetti piccoli E i colpetti grossi Che praticamente Mi fanno Un male Della madonna Io li odio tutti Questa cosa è brutta Non si possono fare queste cose Provato Cioè Provato Chiunque l'ha provato Cioè mi ricordo che lo facevo a scuola Con i miei compagni Che andavo lì E Di nascosto Gli facevo queste cose In parte improbabili Del corpo Tipo lo scoppiavano Ah Che minchia fai Non si fanno queste cose Queste gonne Ah figlio di zoccola Ah perché non muore Beh Oh Ti è un po' ucciso Ed è pure finita la partita Comunque ragazzi Ho fatto diecinove Anche in positivo Comunque ragazzi Per questo video era tutto Come sempre Se vi è piaciuto Invitati a lasciare un bel like Questo è il capiccio dell'iscritto Questo coso è bastardissimo Cioè non dovrebbero metterlo Dentro gli accennieri Perché potrebbe uccidere le persone Se vi è piaciuto Invitati a lasciare un bel like E ciao ciao Yes Consigliatemi qua sotto Un nuovo capriccio dell'iscritto